Siamo al ristorante Trippini, siamo a Civitella del Lago in Umbria, in un piccolo lembo tra Todi e Orvieto sul lago di Corbana. Il ristorante nasce nel 1964 dai nonni Giulia e Giuseppe. Nel nostro ristorante trovate una cucina fatta di territorio e di tradizione non tanto come ricette ma come ingredienti, quindi lavoriamo tutti gli ingredienti del territorio, quindi prettamente carne, l'unico pesce che abbiamo in carta è pesce di lago e cerchiamo di raccontare il nostro territorio attraverso i prodotti, i piatti e il gusto della tradizione. Grazie a Castello di Monterone. Siamo un hotel con un'historica residente del Medell'Age. Abbiamo 18 luoghi e siamo un'indipendente hotel in fronte della provincia di Perugia, in Umbria. Abbiamo lavorato con molti craftsmen di diverse zone di Umbria. Quando descrivo questo luogo, ho usato il termo personale. Abbiamo davvero chiesto che le persone che venivano qui possano sentire la stessa emozione che abbiamo tutti i giorni in questo luogo. Siamo a Perugia, una delle città, è una delle vie più vecchie della città, a Borgo Vedisugno. Noi proponiamo una cucina creativa, ricercata, partendo sempre dal territorio, dalle prodotti che troviamo al territorio, prendendo i piatti vecchi del territorio e cercando di modificarli, mettere la nostra creatività sopra sui piatti. Se ne ricercate questa è un'interse, è un'interse. Noi potresti sono ancora più semplici, quindi possiamo vedere i miei Altre di oggi ho una città di CONSTITUTE. Siamo raci qualcosa di più grande. Un'interse di condizionare i più vecchi di scambi e di più di noi. Quindi i tutti i miei, i miei, i miei, i miei che si sono statati forti, ovviamente, i miei i miei che sono statati offriano, che sono statati in più ganzi quali, i miei, i miei altri. Ci sono stati alle miei, percheANS, percheca, fino aften, Ciao, sono Marco Lacrimino, lo chef del ristorante L'Acciuga a Perugia, in Umbria. L'Acciuga è un ristorante nato nel 2018 e proponiamo una cucina italiana moderna e attingiamo soprattutto a prodotti del territorio, dandogli una chiave un pochino più moderna. Praticamente la nostra cugina è molto personale, quindi non siamo un ristorante tipico, ma facciamo cucina moderna, ciò significa che prendiamo ingredienti del territorio, quindi locali per la maggior parte ovviamente finché possibile e li trasformiamo in una chiave personale attingendo da tecniche moderne. La nostra cugina è una cugina moderna, e la nostra cugina è una cugina moderna, è una cugina moderna famiglia e una cugina moderna. Quindi abbiamo usato solo prodotti del territorio, abbiamo un grande netto di piccoli produttori, quindi il punto è di essere potente servire tradizionali con un pochino di tecniche. So, very welcome to Vocabolo Moscatelli, we are in the green heart and lung of Italy, in the north of Umbria. Our main idea was to include the local community, like there are many nice little companies, so from the blacksmith to the tilemaker, so it was very important for us that they are all part of this project, everything handmade and locally produced. Well, generally speaking, this hotel has a beautiful tranquilizing vibe, so there is a very positive and calm energy. What guests usually tell us is that as you enter the door you feel right at home. Welcome to everybody. You are now in Panicali. Panicali is a castle, is a medieval castle, built between the 13th to 15th century. And our restaurant is quite romantic, very small restaurant. Our philosophy is to create one relaxing atmosphere to our customers. My wife, our chef Patrizia, sometimes she creates some creative dishes, but always with our local ingredients and respecting the local recipe. and why? By the way, we have to create one for the only place, I miei genitori hanno acquistato il ristorante 32 anni fa e con la nostra famiglia abbiamo deciso di portare avanti questo progetto, è un progetto lungo, la nostra cucina è incentrata sulla terra, su quello che dà questa terra del Trasimeno, verdure, legumi e pesce e carni, che sono le carni di questo territorio qui. L'atmosfera cerchiamo di renderla rilassante, nel momento del pasto è importante che la musica non prevalga e che sia un ambiente tranquillo dove puoi trascorrere del tempo in maniera piacevole. Grazie a tutti.